siamo quasi allora facciamo una verdurina ma dai che mu arriva primavera fra un po i colori qua allora guardate qui c'è della mollica di pane che io tutto tagliuzzato piccola piccola e poi l'ho passata con un pochettino d'olio dentro una padella eccola qua vedete adesso metto prezzemolo olivette ecco qua vedete poi metto un pochettino d'aglio allora un pochetto d'aglio questa è una ricettina al bacio poi metto un pochettino di pepe vedete ecco un po di pepe poi metto un po d'olio goccetto d'olio vai sì sì e un po di parmigiano eccolo qua vedete una bella spolverata di parmigiano e adesso vado a girare tutto vedete ecco qua viene un impasto buonissimo questo è proprio buono che impasto ecco qua allora tre bei peperoni vedete uno giallo uno rosso e uno un po verde misto poi qui la mollica di mezzo filone bello grande bello largo poi mettete un po di sale voi io non lo metto ma voi mettetelo che adesso facci vedere gildarella vai le chiacchiere facci vedere cosa crei raggio spalmabile vedete vai ecco qua che adesso io vado a mettere comunque ragazzi queste sono favolose sono buonissimi ecco sono proprio speciali si presentano pure bene che mi piace tutto questi se ci avete gente ma adesso metto anche come aperitivo qua vedete ecco qua ecco fatto gildarella come è e poi vado a rotolare vedete dire così ecco qua ecco qua guardare in voltino e adesso lo mettiamo qua poi le faccio vedere ce l'ho nascosti ce l'ha nascosti vi può far vedere dopo tutti insieme no vai è notta non c'ho posto manda appoggio qua eh ragazzi fatele perché questi sono buonissimi eh questi anche nei buffet freddi ecco qua vedete sono proprio buoni poi le potete le fette ah i peperoni scusate ma io non non vi ho detto ma io non ho arrostiti capito i peperoni sono arrostiti allora e un'altra cosa mi ero scordata di vera non va dico dicci un po girtare nel prezzemolo ci avevo messo anche il basilico qua dentro eh vedete ecco adesso c'è anche il basilico dentro l'impasto insomma ecco adesso mettiamo un po' di pangrattato ma sono meravigliosi guardate un po' che meraviglia girtare adesso ci mettiamo pure un po' di parmigiano che c'è sta proprio una bomba 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 o non bomba tiè guarda un po' ecco qua silenzio eh silenzio che è sto silenzio bevi state a gustare con gli occhi eh sì sì ecco fatto allora meravigliosi un pochetto di pane famo così eccolo eh se butta niente qua se butta niente anzi è pure più bello tiè l'orticello ho fatto va bene ecco qua il prato girtarella pazzerella è fatto e adesso bomba no 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 è bomba sei impazzita a girtarella va e viva l'allegria eh vai un po' doietto e vai piatto ricco micifico e adesso li vado a infornare dici io li faccio l'inforno vabbè dai la mezz'oretta ci tengo 20 minuti mezz'oretta a 180 170 e allora la gallina canta vai girtare vai girtarella è la bomba meno male che bevemo ciao vai 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 girtarella belli che meraviglia guardateli un po' belli e buoni eh guardate che carini che so eh girtare dai girtare vai faccio questo assaggio va allora ecco qua ah prima di assaggiare eh dici saluto margherita margherita ciao margherita tanti baci belli un bacione anche da me eh margherita ciao ecco adesso assaggiamo se no vai vai gilda sentite come scrocchia quel pangrattato gildare con sto occhietto tutto rosso mannaggia oh ogni giorno ce n'hai una eh gildare no perché che c'ho e vabbè ti fanno male le mani ti fa male l'occhietto eh ti faceva male quando c'aveva sciatica tutto insieme com'è gildare non si distrae buono buonissimo guardate un po' gira faccio vedere qua vi è guardate che meraviglia che profumo mamma mia girtare mo si mangia tutti girella eh guardate che belli che so sono amore carinissimi perché sono buonissimi no buoni del più ma del più del più del più del più spero che vi sia piaciuto il tuo bel piatto è vero che vi è piaciuto a me tanto mamma mia è proprio buono si è vedete è una bella cena fredda se ci avete ospiti va bene allora a parte che so buoni sia caldi che freddi quindi decidete voi vero gildare è come no è certo ma come stavamo a salutare ciao baci grandi a tutti ciao ciao sempre dal cuore e dalla cucina di gilda ciao belli ciao 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 ciao